Un pomeriggio di celebrazione artistica ha segnato l'inaugurazione della mostra dedicata a Beppe Domenici via Reggino, rinomato pittore, ceramista e maestro del Carnevale. L'evento, tenutosi a Palazzo Paolina, è un omaggio al talento eclettico di Domenici in occasione del centenario della sua nascita. Il titolo suggestivo, Il mondo mascherero di Beppe Domenici, anticipa un viaggio attraverso l'universo unico e affascinante creato dall'artista, autore della bellissima fontana davanti al Royal. La mostra offre una panoramica esaustiva delle diverse sfaccettature della sua produzione artistica, evidenziando il suo ruolo significativo come maestro delle maschere nel contesto del Carnevale di Viareggio. Beppe Domenici, nato nel 1924, ha dedicato la sua vita all'esplorazione creativa, spaziando dalla pittura alla ceramica con una maestria straordinaria. La mostra rappresenta un'opportunità imperdibile per gli amanti dell'arte di immergersi nell'universo visivo di Domenici, esplorando opere che abbracciano la gioia del Carnevale e la profondità emotiva della sua espressione pittorica. Questa è una bellissima mostra che va a arricchire il già prezioso calendario del Carnevale, due mostre oggi a Villa Paolina, cento anni dalla nascita di Beppe Domenici, allestita nelle sale nobili nell'appartamento che fu di Paolina Bonaparte e l'altra dedicata a Burlamacco. Beppe Domenici è un artista profondamente viareggino, tutti noi possiamo ammirare la sua opera d'arte, forse quella più importante, la più conosciuta, la bellissima fontana decorata davanti all'hotel Royal. Ecco, di Beppe Domenici questa è l'immagine più bella della città di Viareggio.